Si è insediato al Comune di Piraino Giuseppe Petralia il commissario inviato dalla Regione che sostituirà il Consiglio Comunale da qui alla fine del mandato amministrativo. Il commissariamento, come è noto, è scattato a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte del Consiglio, in aperta polemica con la Giunta Magnaci. Per Petralia i primi giorni sono dedicati alla conoscenza della macchina comunale. Sono stato nominato dall'assessore all'autonomia locale, commissario per la gestione provvisore del Comune in quanto per effetto di questo decreto il Consiglio Comunale viene sospeso in attesa dello scioglimento che verrà dichiarato successivamente con un provvedimento del Presidente della Regione. L'amministrazione Magnaci quindi governerà fino alla scadenza naturale della primavera 2017 senza interlocuzione con il Consiglio Comunale. Una rottura insanabile tra le parti dopo le violente polemiche su imposte e accuse di chiusura. Oggi non è una bella giornata per il nostro Comune perché questo è un vulnus alla democrazia. Cioè nel senso che i rappresentanti nell'ambito di questo organo che è il Consiglio Comunale non ci saranno più per questo tempo che rimane fino alla fine del mandato e i cittadini che avevano dato il voto per essere rappresentati in quel Consiglio Comunale non avranno più la loro rappresentanza in quell'organo. Io l'ho votato il bilancio quindi non è stato per me scelta lo scioglimento di questo Consiglio Comunale perché il nostro dovere, il nostro impegno è quello di rispettare la volontà popolare. Ci ha dato questo mandato fino al 2017. Oggi noi siamo stati privati di poter rappresentare i nostri elettori e tutta la comunità quindi è una perdita forte di tutta la cittadinanza. Grazie.